la trasfigurazione di gesù sul monte tabor dicembre naturalmente parla maria valtorta chi mai fra gli uomini non ha visto almeno una volta un'alba serena di marzo se quest'uno c'è è un grande infelice perché ignora una delle grazie più belle della natura risvegliata da primavera tornata fanciulla quale doveva essere il primo giorno in questa grazia che è pura in ogni suo aspetto e cosa dalle erbe novelle e rugiadose ai fioretti che si dischiudono come bimbi che nascono al primo ridere della luce del giorno agli uccelli che si destano con un frullo d'ali e dicono il primo chip interrogativo all'odore stesso dell'aria che ha perduto nella notte per il lavatro delle rugiade e l'assenza dell'uomo ogni corruzione di polvere, fumo e sentore di corpi umani in questa grazia della natura vanno Gesù, gli apostoli e i discepoli è con essi anche Simone d'Alfeo vanno in direzione sud-est valicando i colli che fanno corona a Nazareth superando un torrente, traversando una pianura stretta fra i colli nazareni e un gruppo di monti verso est questi monti sono preceduti dal cono semitronco del Tabor che mi ricorda stranamente nella sua vetta la lucerna dei nostri carabinieri vista di profilo lo raggiungono, raggiungono il monte Tabor Gesù si ferma e dice Pietro, Giovanni e Giacomo di Zebedeo vengano con me sul monte voi spargetevi alla sua base dividendovi verso le strade che la costeggiano e predicate il Signore verso sera voglio essere di nuovo a Nazareth non allontanatevi dunque molto la pace sia con voi e volgendosi ai tre chiamati dice andiamo e prende la salita senza più volgersi indietro e con un passo così sollecito che fa affaticare Pietro a stargli dietro in un momento di sosta Pietro rosso e sudato gli chiede col fiato grosso ma dove andiamo? non ci sono case sul monte sulla cima a quella vecchia fortezza vuoi andare a predicare là? avrei preso l'altro versante ma tu vedi che gli volgo le spalle non andremo alla fortezza e chi è in essa non ci vedrà neppure vado ad unirmi col padre mio e vi ho voluti con me perché vi amo su lesti oh mio signore non potremmo andare un poco più ad agio invece e parlare di quanto abbiamo sentito e visto ieri che ci ha tenuti desti tutta la notte per parlarne? risponde Gesù agli appuntamenti di Dio si va sempre veloci forza Simon Pietro lassù vi farò riposare e riprende a salire 5 agosto 1944 sono col mio Gesù su un alto monte con Gesù sono Pietro, Giacomo e Giovanni salgono ancora più in alto e l'occhio spazia per aperti orizzonti che un bel giorno sereno rende netti nei particolari fino nelle lontananze il monte non fa parte di un sistema montano come è quello della Giudea sorge isolato avendo rispetto al luogo dove ci troviamo l'oriente in faccia il nord alla sinistra il sud a destra e dietro a ovest la vetta che si alza ancora di qualche centinaio di passi è molto elevato e l'occhio è libero di vedere per un largo raggio il lago di Genezareth pare un lembo di cielo sceso a incastonarsi fra il verde della terra una turchese ovale chiusa da smeraldi di diverse gradazioni uno specchio che tremula e si increspa a un vento lieve e sul quale scivolano con agilità di gabbiani le barche dalle vele spiegate leggermente curvate verso l'onda azzurrina proprio con la grazia del volo candido di un alcione scorrente l'onda in cerca di preda poi ecco che dalla vasta turchese esce una vena di un azzurro più pallido là dove il greto è più ampio e più scuro là dove le rive si stringono e l'acqua è più profonda e cupa per l'ombra che vi gettano gli alberi che crescono vigorosi presso il fiume nutriti dal suo umore il Giordano pare una pennellata quasi rettilinea nel verde della pianura dei paeselli sono sparsi per la pianura al di qua e al di là del fiume alcuni di essi sono proprio un pugno di case altri sono più vasti già arieggianti a cittadine le vie maestre sono rughe giallognole fra il verde ma qua dalla parte del monte la pianura è molto più coltivata e fertile molto bella si vedono le diverse colture coi loro diversi colori ridere al bel sole che scende dal cielo sereno deve essere primavera forse marzo se calcolo la latitudine della palestina perché vedo i grani già alti ma ancora verti ondulare come un mare glauco e vedo i pennacchi dei più precoci fra gli alberi da frutto mettere come delle nuvolette bianche e rose su questo piccolo mare vegetale poi prati tutti in fiore per gli alti fieni sui quali pecorelle pascolanti paiono mucchietti di neve ammucchiata qua e là sul verde proprio vicino al monte sulle colline che ne sono la base basse e brevi colline sono due cittadine una verso sud una verso nord la pianura fertilissima si estende specialmente e più ampiamente verso il sud Gesù dopo una breve sosta al fresco di un ciuffo di alberi certo concessa per pietà di Pietro che nelle salite fatica palesemente riprende a salire va fin quasi sulla vetta là dove c'è un pianoro erboso che ha un semicerchio di alberi verso la costa riposate amici io vado là a pregare e accenna con la mano ad un ampio sasso una roccia che affiora dal monte e che si trova perciò non verso la costa ma verso l'interno la vetta Gesù si inginocchia sulla terra erbosa e appoggia le mani e il capo al masso nella posa che prenderà anche nella preghiera del Gezzemani il sole non lo colpisce perché la vetta lo ripara ma il resto dello spiazzo erboso è tutto lieto di sole sino al limite d'ombra dello scrimolo alberato sotto il quale si sono seduti gli apostoli Pietro si leva i sandali e ne scuote via polvere e sassolini e sta così scalzo coi piedi stanchi fra l'erba fresca quasi steso col capo su un ciuffo smeraldino che sporge più degli altri sulla sua zolla come un guanciale Giacomo lo imita ma per stare comodo cerca un tronco d'albero al quale appoggia il suo mantello e su questo le spalle Giovanni resta seduto e osserva il maestro ma la calma del luogo il venticello fresco il silenzio e la stanchezza vincono anche lui e la testa gli si abbassa sul petto e così le palpebre sugli occhi non dormono profondamente nessuno dei tre ma sono in quella sonnolenza estiva che intontisce gli scuote una luminosità così viva che annulla quella del sole e dilaga e penetra fin sotto il verde dei cespugli e alberi sotto cui si sono messi aprono gli occhi stupiti e vedono Gesù trasfigurato egli è ora tale e quale come lo vedo nelle visioni del paradiso naturalmente senza le piaghe e senza il vessillo della croce ma la maestà del volto e del corpo è uguale uguale ne è la luminosità è uguale la veste che da un rosso cupo si è mutata nel diamantifero e perlifero tessuto immateriale che lo veste in cielo il suo viso è un sole dalla luce siderale ma intensissima nel quale raggiano gli occhi di zaffero sembra più alto ancora come la sua glorificazione ne avesse aumentato la statura non saprei dire se la luminosità che rende persino fosforescente il pianoro provenga tutta da lui o se alla sua propria si mesca quella che ha concentrata sul suo signore tutta la luce che è nell'universo e nei cieli so che è qualcosa di indescrivibile Gesù è ora in piedi direi anzi che è alzato da terra perché fra lui e il verde del prato vi è come un vaporare di luce uno spazio dato unicamente da una luce sul quale pare egli si erga ma è tanto viva che potrei anche ingannarmi e il non vedere più il verde dell'erba sotto le piante dei piedi di Gesù potrebbe essere provocato da questa luce intensa che vibra e fa onde come si vede talora nei grandi fuochi onde qui di un colore bianco incandescente Gesù sta col volto alzato verso il cielo e sorride ad una sua visione che lo sublima gli apostoli ne hanno quasi paura e lo chiamano perché non pare più a loro che sia il loro maestro tanto è trasfigurato maestro maestro chiamano piano ma con ansia egli non sente è in estasi dice Pietro tremante che vedrà mai i tre si sono alzati in piedi vorrebbero accostarsi a Gesù ma non osano la luce aumenta ancora per due fiamme che scendono dal cielo e si collocano ai lati di Gesù quando sono stabilite sul pianoro il loro velo si apre e ne appaiono due maestosi e luminosi personaggi l'uno più anziano dallo sguardo acuto e severo e da una lunga barba bipartita dalla sua fronte partono corni di luce che me lo indicano per Mosè l'altro è più giovane scarno barbuto e peloso super giù come il battista al quale direi assomiglia per statura magrezza conformazione e severità mentre la luce di Mosè è candida come quella di Gesù specie nei raggi della fronte quella che emana Elia è solare di fiamma viva i due profeti prendono una posa di riverenza davanti al loro Dio incarnato e sebbene questi parli loro con familiarità essi non abbandonano la loro posa riverente non comprendo neppure una delle parole dette i tre apostoli cadono in ginocchio tremanti col volto fra le mani vorrebbero vedere ma hanno paura finalmente Pietro parla maestro maestro odimi Gesù gira lo sguardo con un sorriso verso il suo Pietro che si rinfranca e dice è bello stare qui con te Mosè e Elia se vuoi facciamo tre tende per te per Mosè e per Elia e noi stiamo qui a servirvi Gesù lo guarda ancora e sorride più vivamente guarda anche Giovanni e Giacomo uno sguardo che li abbraccia con amore anche Mosè ed Elia guardano i tre fissamente i loro occhi balenano devono essere come raggi che penetrano i cuori gli apostoli non osano dire altro intimoriti tacciono sembrano un poco ebbri come chi è sbalordito ma quando un velo che non è nebbia che non è nuvola che non è raggio avvolge e separa i tre gloriosi dietro uno schermo ancora più lucido di quello che già li circondava e li nasconde alla vista dei tre e una voce potente armonica vibra ed empie di sé lo spazio i tre cadono col volto contro l'erba questo è il mio figliolo di letto nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo Pietro nel gettarsi bocconi esclama misericordia di me peccatore è la gloria di Dio che scende Giacomo non fiata Giovanni mormora con un sospiro come fosse prossimo a svenire il Signore parla nessuno osa alzare la testa anche quando il silenzio si è rifatto assoluto non vedono perciò neppure il tornare della luce alla sua naturalezza di luce solare e mostrare Gesù rimasto solo e tornato il Gesù solito nella sua veste rossa egli cammina verso loro sorridendo e li scuote e tocca e chiama per nome alzatevi sono io non temete dice perché i tre non osano alzare il volto e invocano misericordia sui loro peccati temendo che sia l'angelo di Dio che vuol mostrarli all'altissimo levatevi dunque ve lo comando ripete Gesù con imperio essi alzano il volto e vedono Gesù che sorride oh maestro Dio mio esclama Pietro come faremo a viverti accanto ora che abbiamo visto la tua gloria come faremo a vivere fra gli uomini e noi uomini peccatori ora che abbiamo udito la voce di Dio dovrete vivermi accanto e vedere la mia gloria sino alla fine siatene degni perché il tempo è vicino ubidite al padre mio e vostro torniamo ora fra gli uomini perché sono venuto per stare fra essi e per portare essi a Dio andiamo siate santi per ricordo di quest'ora forti fedeli avrete parte alla mia più completa gloria ma non parlate ora di questo che avete visto ad alcuno neppure ai compagni quando il figlio dell'uomo sarà resuscitato dai morti e tornato nella gloria del padre allora parlerete perché allora occorrerà credere per avere parte nel mio regno ma non deve venire Elia per preparare al tuo regno i rabbi dicono così Elia è già venuto ed ha preparato le vie al Signore tutto avviene come è stato rivelato ma coloro che insegnano la rivelazione non la conoscono e non la comprendono e non vedono e non riconoscono i segni dei tempi e i messi di Dio Elia Elia è tornato una volta la seconda volta verrà quando il tempo ultimo sarà vicino per preparare gli ultimi a Dio ma ora è venuto per preparare i primi al Cristo e gli uomini non l'hanno voluto riconoscere e lo hanno tormentato e messo a morte lo stesso faranno col figlio dell'uomo perché gli uomini non vogliono riconoscere ciò che è loro bene i tre chinano la testa pensosi e tristi e scendono per la via dalla quale sono saliti insieme a Gesù 3 dicembre 1945 ed è ancora Pietro che dice in una sosta a mezza via ah signore dico anche io come tua madre ieri perché ci hai fatto questo e anche dico perché ci hai detto questo le tue ultime parole hanno cancellato la gioia della gloriosa vista dai nostri cuori gran giorno di paura è questo prima ci ha fatto paura la grande luce che ci ha destati più forte che se il monte ardesse o che se la luna fosse scesa a raggiare sul ripiano sotto i nostri occhi poi il tuo aspetto e il tuo staccarti dal suolo come fossi per volare via ho avuto paura che tu disgustato dalle nequizie di Israele te ne tornassi ai cieli magari per ordine dell'altissimo poi ho avuto paura di vedere apparire Mosè che i suoi del suo tempo non potevano più vedere senza velo tanto splendeva sul suo volto il riflesso di Dio e ancora era uomo mentre ora è spirito beato e acceso di Dio e Elia misericordia divina ho creduto ad essere giunto al mio ultimo momento e tutti i peccati della mia vita da quando rubavo la frutta nella dispensa da piccino all'ultimo di averti mal consigliato giorni or sono mi sono venuti alla mente con che tremore me ne sono pentito poi mi parve che mi amassero quei due giusti e ho osato parlare ma anche il loro amore mi faceva paura perché io non merito l'amore di simili spiriti e dopo la paura delle paure la voce di Dio Geovè che ha parlato a noi ci ha detto ascoltatelo tu e ti ha proclamato suo figlio di letto nel quale egli si compiace che paura Geovè a noi certo solo la tua forza ci ha tenuti in vita quando tu ci hai toccato e le tue dita ardevano come punte di fuoco io ho avuto l'ultimo spavento ho creduto che fosse l'ora di essere giudicato e che l'angelo mi toccasse per prendermi l'anima e portarla all'altissimo ma come ha fatto tua madre a vedere a sentire a vivere insomma quell'ora che tu hai detto ieri senza morire lei che era sola giovanetta senza di te Maria la senza macchia non poteva avere paura di Dio Eva non ne aveva paura finché fu innocente e poi io c'ero io il padre e lo spirito noi che siamo in cielo in terra in ogni luogo e che avevamo il nostro tabernacolo nel cuore di Maria dice dolcemente Gesù che cosa che cosa ma dopo tu hai parlato di morte e ogni gioia è finita ma perché proprio a noi tre tutto questo non era bene darla a tutti questa visione della tua gloria appunto perché tramortite udendo parlare di morte e morte per supplizio del figlio dell'uomo l'uomo Dio vi ha voluto fortificare per quell'ora e per sempre con la precognizione di ciò che io sarò dopo la morte ricordatevi tutto questo per dirlo a suo tempo avete capito oh sì signore non è possibile dimenticare e sarebbe inutile raccontare ci direbbero che siamo ebri tornano ad andare verso la valle ma giunti ad un punto Gesù piega per un viottolo ripido in direzione di Endor ossia dal lato opposto di quello nel quale ha lasciato i discepoli non li troveremo dice Giacomo il sole inizia la discesa si staranno radunando in tua attesa nel luogo dove li lasciasti vieni e non crearti stolti pensieri infatti come la boscaglia si apre in una prateria che scende mollemente a toccare la via maestra vedono tutta la massa dei discepoli accresciuta da viandanti curiosi da scribi venuti da non so dove oimè scribi e disputano già dice Pietro accennandoli e scende gli ultimi metri a malincuore ma anche quelli giù in basso li hanno visti e se li accennano e poi si danno a correre verso Gesù gridando come mai maestro da questa parte stavamo per venire al posto detto ma ci hanno trattenuti in dispute gli scribi e in suppliche un padre affannato di che disputavate fra voi per un indemoniato gli scribi ci hanno scherniti perché non abbiamo potuto liberarlo ci si è messo giuda di carriot da capo di puntiglio ma fu inutile allora abbiamo detto mettetevi ci voi hanno risposto non siamo esorcisti per caso sono passati alcuni venienti da caslo tabor tra i quali erano due esorcisti ma anche loro niente ecco il padre che viene a pregarti ascoltalo un uomo infatti viene avanti supplichevole e si inginocchia davanti a gesù rimasto sul prato in pendenza di modo che è più alto della via di almeno tre metri è ben visibile a tutti perciò maestro dice l'uomo io venivo a cafarnao con il figlio mio per cercare te te lo portavo l'infelice figlio mio perché tu lo liberassi tu che cacci i demoni e guarisci ogni malattia egli è preso spesso da uno spirito muto quando lo prende egli non può più che fare gridi rochi come una bestia che si strozza lo spirito lo butta a terra ed egli la si rotola digrignando i denti spumando come un cavallo che morde il morso e si ferisce o rischia di morire affogato o bruciato oppure sfracellato perché lo spirito più di una volta lo ha buttato nell'acqua nel fuoco o giù dalle scale i tuoi discepoli ci hanno provato ma non hanno potuto oh signore buono pietà di me e del mio fanciullo Gesù fiammeggia di potenza mentre grida oh generazione perversa oh turba satanica legione ribelle popolo dell'inferno incredulo e crudele fino a quando dovrò stare a contatto con te fino a quando ti dovrò sopportare è imponente tanto che si fa un silenzio assoluto e cestano i sogghigni degli scrivi Gesù dice al padre alzati e portami qui tuo figlio l'uomo va e torna con altri uomini al centro dei quali è un ragazzo sui dodici quattordici anni un bel fanciullo ma dallo sguardo un poco ebete come fosse sbalordito sulla sua fronte rosseggia una lunga ferita e più sotto biancheggia una cicatrice antica non appena vede Gesù che lo fissa con i suoi occhi magnetici ha un grido roco e un contorcimento convulsivo di tutto il corpo mentre cade a terra spumando e roteando gli occhi di modo che appare solo il bulbo bianco mentre si rotola per terra nella caratteristica convulsione epilettica Gesù viene avanti qualche passo per giungergli vicino e dice da quando gli avviene ciò parla forte che tutti sentano e l'uomo urlando mentre il cerchio della folla si stringe e gli scrivi si mettono più in alto di Gesù per dominare la scena dice fin da bambino te l'ho detto spesso cade nel fuoco nell'acqua o giù dalle scale dagli alberi perché lo spirito lo assale all'improvviso e lo scaraventa così per finirlo è tutto pieno di cicatrici e di bruciature molto è se non è rimasto accecato dalle fiamme del focolare nessun medico nessun esorcista neppure i tuoi discepoli lo hanno potuto guarire ma tu se come credo fermamente puoi qualche cosa abbi pietà di noi e soccorrici se puoi credere così tutto mi è possibile perché tutto è concesso a chi crede oh signore se io credo ma se ancora non credo a sufficienza aumenta tu la mia fede perché sia completa e ottenga il miracolo dice l'uomo piangendo inginocchiato presso il figlio più che mai in convulsione Gesù si raddrizza si tira indietro due passi e mentre la folla più che mai stringe il suo cerchio grida forte spirito maledetto che fai sordo e muto il fanciullo e le tormenti io te lo comando esci da lui e non rientrarvi mai più il fanciullo pur stando coricato al suolo fa dei balzi paurosi puntando testa e piedi ad arco e a gridi disumani poi dopo un ultimo balzo nel quale si rivolta bocconi battendo la fronte e la bocca su un masso emergente dall'erba che si fa rossa di sangue poi resta immoto immobile è morto gridano in molti povero fanciullo povero padre compiangono i migliori e gli scrivi ghignando ti ha servito bene il nazareno oppure maestro com'è questa volta Belzebù ti ha fatto fare brutta figura e ridono velenosamente Gesù non risponde a nessuno neppure al padre che ha rivoltato il figlio e gli asciuga il sangue dalla fronte e dalle labbra ferite gemendo invocando Gesù ma si china il maestro e prende per mano il fanciullo e questo apre gli occhi con un sospirone come se si destasse da un sonno si siete e sorride Gesù lo attira a sé lo fa alzare in piedi e lo consegna al padre mentre la folla grida di entusiasmo e gli scrivi fuggono inseguiti dalle beffe della folla e ora andiamo dice Gesù ai suoi discepoli e congedata la folla gira il fianco del monte portandosi sulla via già fatta al mattino commento di Gesù al capitolo della trasfigurazione sul monte Tabor 5 agosto 1944 dice Gesù ti ho preparata a meditare la mia gloria domani la chiesa la celebra ma io voglio che il mio piccolo Giovanni spesso Gesù chiama così Maria Valtorta piccolo Giovanni per chi non ne fosse a conoscenza ma io voglio che il mio piccolo Giovanni la veda nella sua verità per comprenderla meglio non ti eleggo soltanto a conoscere le tristezze del tuo maestro e i suoi dolori chi sa stare meco nel dolore deve avere parte meco nella gloria voglio che tu davanti al tuo Gesù che ti si mostra abbia gli stessi sentimenti di umiltà e pentimento dei miei apostoli mai superbia saresti punita perdendomi continuo ricordo di chi io sono e di chi sei tu continuo pensiero alle tue manchevolezze e alla mia perfezione per avere un cuore lavato dalla contrizione ma insieme ha anche tanta fiducia in me io ho detto non temete alzatevi andiamo andiamo fra gli uomini perché sono venuto per stare con essi siate santi forti e fedeli per ricordo di quest'ora lo dico anche a te e a tutti i miei prediletti fra gli uomini a quelli che mi hanno in maniera speciale quando dice a quelli che mi hanno in maniera speciale immagino che Gesù si riferisca a chi vive esperienze mistiche o comunque a chi gli è molto vicino nella adorazione e nella contemplazione non temete di me mi mostro per elevarvi non per incenerirvi alzatevi la gioia del dono vi dia vigoria e non vi ottunda nel sopore del quietismo credendovi già salvi perché vi ho mostrato il cielo andiamo insieme fra gli uomini vi ho invitati a sovrumane opere con sovrumane visioni e lezioni perché possiate essermi di maggiore aiuto vi associo alla mia opera ma io non ho conosciuto e non conosco riposo perché il male non riposa mai e il bene deve essere sempre attivo per annullare più che si può l'opera del nemico riposeremo quando il tempo sarà compiuto ora occorre andare instancabilmente operare continuamente consumarsi indefessamente per la messe di Dio il mio contatto continuo vi santifichi la mia lezione continua vi fortifichi il mio amore di predilezione vi faccia fedeli contro ogni insidia non siate come gli antichi rabbini che insegnavano la rivelazione e poi non le credevano al punto da non riconoscere i segni dei tempi e i messi di Dio riconoscete i precursori del Cristo nel suo secondo avvento poiché le forze dell'anticristo sono in marcia e facendo eccezione alla misura che mi sono imposta perché conosco che bevete a certe verità non per spirito soprannaturale ma per sete di curiosità umana vi dico in verità che quello che molti crederanno vittoria sull'anticristo la pace ormai prossima non sarà che sosta per dare tempo al nemico del Cristo di ritemprarsi medicarsi le ferite riunire e il suo esercito per una più crudele lotta riconoscete voi che siete le voci di questo vostro Gesù del re dei re del fedele e verace che giudica e combatte con giustizia e sarà il vincitore della bestia e dei suoi servi e profeti riconoscete il vostro bene seguitelo sempre nessun bugiardo aspetto vi seduca e nessuna persecuzione vi atterrisca la vostra voce dica le mie parole la vostra vita sia per quest'opera e se avrete sorte sulla terra comune al Cristo al suo precursore ad Elia sorte cruenta o sorte tormentata da sevizi morali sorridete alla vostra sorte futura e sicura che avrete comune con Cristo con il suo precursore con il suo profeta qui io maestro ed esempio là io premio e re avermi sarà la vostra beatitudine sarà dimenticare il dolore sarà quanto ogni rivelazione ancora insufficiente a farvi capire perché troppo superiore è la gioia della vita futura alla possibilità di immaginare della creatura ancora unita alla carne